Su fratelli, su compagni, su venite in fitta schiera, su una libera bandiera, splende il sol dell'avenì. Nelle pene e nell'insulto ci svingemmo in muto patto, la gran casa del riscatto di un Dinai. Mettello aveva ricevuto le notizie e i saluti del Dinai l'ultima volta in occasione delle ricorrenze del 95. Si trovava a Napoli e di lì a poco era stato congedato. Gli aveva scritto in seguito e anche loro a lui sembrava, certo in quei tempi, egli aveva cambiato spesso indirizzo, dallo stambugio di Pestelli alla baracca del cantiere. Poi i fili si erano spezzati, ma uno sempre ne resiste, quello via via più sottile, ma di refe della memoria, che quando il bisogno preme diventa un canapo o una fune. Due mesi fa Olindo aveva bussato in via dell'olivo e fattosi riconoscere da Ersilia e, saputo dove Mettello lavorava, non si era nemmeno fermato e era andato ad aspettarla all'uscita del cantiere. E dopo la sorpresa, gli abbracci e la bevuta, le notizie che gli aveva dato non erano state di consolazione. La miniera, dove, seguendo l'esempio del padre, loro quattro fratelli erano scesi uno dopo l'altro, li aveva messi in ginocchio, o quasi, quando non li aveva uccisi. Dapprima Babba Eugenio, ma non lavorava più, non lavorava già più in miniera, dopo qualche anno stava perdendo la vista. Faceva il bracciante da quei contadini. È una terra avara, nera, peggio della nostra di Ricine. Magari, si colpì tra cosce e inghune con un pennato, sembrava una cosa da nulla, ma la ferita si infettò, ebbe un'agonia di tre giorni. Nel delirio parlava di rincine, dava la colpa al guardia d'averlo ferito, fece anche il nome di Metello prima di morire. E poi Vittorio, che era rimasto sepolto da uno scoppio di grisù, la settimana di Pasqua del 98, insieme a sei compagni. Laggiù sono cose normali, se non è un disastro in grande, non appare neanche sui giornali. Vittorio aveva 23 anni e si era appena sposato. Era anche lei figlia di italiani emigranti e minatori, una veneta, e si era risposata con Carlo, l'altro fratello, il penultimo. Ci correvano due anni tra lui e Vittorio. Sai, era rimasta con noi, lei e il bambino. Era una donna, era sempre per casa. Erano due bocche che in un modo o nell'altro si dovevano sfamare. Ora hanno altri due figlioli. Sono rimasti a Charleroi. Tengono con sé la mamma. E c'era Ascanio. Metello lo ricordava col sottanino e doveva avere adesso anche lui una ventina d'anni. morto Vittorio. Non ne aveva voluto più sapere di miniera e se n'era andato. E di famiglia. E dal Belgio. Scriveva di tanto in tanto. Ultimamente da Pau, gira gira, anche se non lo scriveva, doveva essere di ridisceso in miniera. Nelle sue lettere non si spiegava mai bene. Di tanto in tanto mandava dieci franchi alla mamma e da Pau aveva scritto per via delle carte, siccome voleva diventare francese. Era un passo che anche Vittorio e anche Carlo avevano di già fatto. Una volta naturalizzati li guardavano con un altro occhio e li pagavano un po' meglio. Siamo partiti da Rincine per diventare chi belga, chi francese. Si fosse fatta almeno in cambio un po' di fortuna. C'era infine la sua storia. Io no. Io sono rimasto italiano. E se le altre storie dei suoi fratelli e di suo padre erano semplici tanto che non avevano bisogno di infittirle di particolari, la sua in apparenza più complessa era anche più semplice in definitiva. Non aveva preso la nazionalità perché gliel'avevano rifiutata. Si era deciso per primo, ma capitò in un momento che quel governo aveva messo il fermo alle adozioni e quando ci volle riprovare il console lo sconsigliò ricordandogli la patria. Erano i tempi di Adua e sembrava un tradimento. Se non mi fossi lasciato intenerire, a quest'ora non sarei qui a chiederti, metello, fammi pigliare come mano vale, mettici una parola. Lavorava in miniera da dieci anni, si era sposato anche lui con un'italiana e gli erano nati i primi due figlioli quando una, durante una fuga di Grisù, non uno scoppio, una fuga, cose che capitavano tutti i giorni, cote sto giorno la maschera non funzionò o lui se l'era calzata male respirò tanto gas prima di raggiungere l'altra galleria da crollare a terra come un cencio appena in salvo. Fu in sanatorio per sei mesi, ne uscì coi polmoni rattoppati, ma gli riconobbero il diritto alla liquidazione. Una miscea, ma da un male sembrava nato un bene, disponeva di un piccolo capitale, di tornare in Italia malgrado la mamma non facesse che sognare rincine e l'onda come una prigioniera l'aria e il sole non se lo proposero nemmeno. Cosa sarebbero tornati a fare? Oramai la loro vita era lì, ci avevano messo le radici, questo era successo tre anni prima, coi soldi della liquidazione aveva preso in appalto un bettolino, si cucinava la pasta asciutta, sai, i nostri minestroni, la ribollita, mi feci mandare il vino di contea pagando, si intende, dalla zia, la sorella del babbo, te la ricordi? E fattoressa da un pezzo, hanno fatto i quattrini lei e lo zio Ascanio. Al suo bettolino ci andavano anche i capi squadra e gli assistenti e non soltanto gli italiani, sembrava si cominciasse a vedere un po' di luce, ma che? Scopersero che quei minatori giocavano d'azzardo con le carte nel retro bottega e gli venne ritirata la licenza per scampare il carcere dove pagare una multa che si mangiò il capitale. Fu tutta invidia, una spiata, mi vogliono rovinare, siccome non ammettono che un italiano possa salire più su di uno scalino. Tornare in miniera non poteva, non lo avrebbero ripreso e non glielo permetteva la salute. Intanto gli erano nati altri due figlioli. Cosa facevo? Dopo qualche mese non avevo più un franco, vivevo alle spalle di Carlo e siamo sei persone. Il ragazzo più grande da otto anni appena decise di rimpatriare, sperava che a rincine la zia li avrebbe sistemati ridandogli un po' di terra. Se la sarebbe sentita di ricominciare da capo ma dubitando che la zia avrebbe risposto con un rifiuto invece di scrivere gli erano capitati di sorpresa. Sul primo lo zio Ascanio ci voleva mettere in mano dei carabinieri. Già si era tornato in Italia col foglio di via. Poi ci hanno dato una stanza sul dietro della fattoria. Si dorme tutti lì. mia moglie, io e i figlioli. Mia moglie fa i servizi in fattoria. L'hanno costretta fin dal primo giorno a sfacchinare. Ma io andare in giro a offrire le braccia, fare il parente povero e con la poca salute che ho dopo un mese non me la sono più sentita. Ma il bisogno rimane siccome ho visto che tanti di Contea di Londra sono tornati a lavorare a Firenze nei cantieri. Aiutami, fammi fare una bella figura. ho bisogno di lavorare. Anche la mamma mi si era comandata cento volte prima che io partissi. Cerca Metello, vedrai se hai bisogno di aiuta. Io ho allevati con lo stesso latte e un animo buono. Digli che lo vorrei tanto rivedere. Ti considera come un suo figliolo, come uno di noi e in fondo, rimanendo qui, di tutti noi, tu sei stato il più affortunato. e mentre andavano verso casa la sera stessa che si erano rivisti dopo quindici anni o quasi, Olindo gli chiese a Rincine non ci sei mai più tornato? Me ne è mancata l'occasione a dir la verità? Non ne ho mai avuto nostalgia. Ma di lì tutti si ricordano di te, anche Cosetta. Tu, di Cosetta, te ne ricordi? Come no, disse Matello. L'ho ancora qui. Si torcò la gola. Si è fatta bella grassa, tu la vedessi, è proprio una sposona. Non le sia dice più quel nome. Versi vent'anni si era chiusa in convento, ma poi figurati se non ci ripensò prima di prendere il velo. Scappò col figliolo del Procaccia e con lui che si è sposata. Hanno tre diligenze e sei coppie di cavalli. A tutti è andata meglio che a me, ripeteva. Metello aveva parlato all'ingegner Badolati e la settimana successiva Olindo era stato assunto come manovale. Eh, Metello, tu hai la felicità in famiglia. È un padrone che ti apprezza e ti ascolta, ma grado le tue idee. Ma lo meriti, te lo dico senza invidia. Così Olindo l'aveva ringraziato. Delle idee? Ora che aveva finito la munizione si era iscritto al partito. Gli era sembrato logico dopo gli otto mesi di carcere e gli undici trascorsi nell'isola dove non si era trovato peggio degli altri. C'era da costruire una caserma dei carabinieri e aveva potuto anche lavorare e dove aveva frequentato uomini che potevano stare all'altezza di Del Buone e del Kenlini. Ma era un'esperienza, diciamo, della quale non si vantava e non gli piaceva di parlarne. Ho visto troppe ingiustizie. Ho mangiato troppo fiele. Più presto me ne dimentico meglio è. Basta me ne ricordo dentro di me per il momento in cui mi si rendesse necessario. Da vecchio, semmai, la racconterò ai nipoti. Tuttavia, come il suo corpo fioriva nella piena maturità, così il suo modo di agire e di pensare da che era tornato a Firenze e al lavoro si era rafforzato. Se un tempo egli si proponeva di non essere mai nell'ultimo del primo, i fatti gli avevano dimostrato che Cotesta era una posizione impossibile da sostenere. In ogni circostanza l'urto è uno solo e non conta il peso delle singole spallate. Chi è più forte spinge più forte, diceva. Diviene naturale. Non esiste un primo e un ultimo e si tratta piuttosto che di muscoli di carattere di persuasione, di volerla una cosa oppure no, di stare da una parte o dall'altra, poiché diceva il mondo è diviso in due, ci sono gli amici e i nemici. Le vie di mezzo sono fatte per chi ha tempo da perdere e paura che gli venga a mancare la pappa scodellata. Accedeva a delle distinzioni. C'è semmai la scala del più e del meno, ma riguarda la considerazione in cui devi tenere gli amici. A volte sbagliano, tutti si può sbagliare, una cosa non è mai tutta bene o tutta male, anche nella più bell'uva vedrai delle macchioline e da lì che l'acino se lo conservi incomincia a marcire. Tu, cotesti amici, aspettate dal momento che i fatti come le sorbe vengono a maturazione, ma intanto cammina insieme a loro, non ti staccare, potrebbe essere che il torto fosse il tuo. Certe volte inganna perfino il filo a piombo e perfino lo specchio, figurasi ti se non ci si inganna a giudicarsi di persona. Infallibile non è nemmeno il Papa, nemmeno Max, credo anche se pensano, credo anche se non l'ho studiato nessuno, quindi tra quelli che la pensano come te, guarda, chi ne sa più di te, pesalo, fatti capire, e poi vai lì dietro, vai bene. Questa era la sua opzione e il suo modo di pensare. Se ti stacchi ti sperdi, diceva, e chi si sperde presto o tardi passa da quell'altra parte, diventa come un caporale che è tutt'uno col padrone e se gli riesci intrappola anche lui, come ha fatto il Madì che si è messo in proprio, ingannando e rubando a Badolati, ma bisogna tu ci sia nato. Con l'onestà non si arriva mai lontano e anche senza essere dei veri ladri bisogna essere furbi in una maniera particolare come la volpe in un mondo senza tagliole. Può darsi il caso, aggiungeva, che un amico si cambi nemico. Raro è il contrario. I tuoi nemici ce li hai stampati davanti agli occhi. Sta' attento quando ti stendono la mano. Questo era il suo modo di agire, come diceva, in generale. invitava gli altri a farlo proprio allorché occorreva trovarsi d'accordo per una richiesta d'aumento che appariva sacrosanta o contro un sopruso troppo grosso da ingoiare. Anche diceva, secondo Del Buono, secondo Pescetti e Max Turati e tutti quei barboni è lotta di classe, chiamiamola così. L'importante è strappare sempre un po' più di pane, in quanto al resto è naturale che spesso tu debba strezzare il ganascino proprio al muso su cui sputeresti più volentieri. Sarebbe tale una soddisfazione, ma c'è da portare in fondo la giornata. Il sabato bisogna riscuotere il salario, se no a casa nella pentola che ci bolli? La lotta di classe? La soddisfazione? Lo ascoltavano in cantiere e alla camera del lavoro. Del Buono lo interpellava prima di sottoporre ai più il modo di impostare un'agitazione, una protesta. I suoi compagni di mestiere gli volevano bene, gli dispiaceva non si mettesse di più in evidenza. Ultimamente avrebbero voluto mandarlo delegato al comizio dei muratori e lo stesso si era schermito c'era andato Giannotto al posto suo. No, davvero, egli diceva in queste occasioni. Ci basta del buono anche se non è un moratore e Giovannotto va benissimo, io lo conosco, io voglio contare per uno ed essere libero nelle mie azioni quando ho finito il mio lavoro. Se mi chiamate accorro, ma per mettermi in fila. C'ho una moglie giovane, mi piace l'opera, mi piace prendermi delle distrazioni, potessi, mi piacerebbe tante cose, sospirava. Quelli dei suoi compagni di lavoro che venivano dalla campagna e che per darsi un'arte e un pane che la terra gli negava si erano fatti i muratori, riconoscevano in lui uno di loro che in pochi anni era andato avanti col cervello ed era capace di comprendere i loro umori e le loro ragioni. E quelli di città, oltre a valutare come tutti la sua coscienza sul lavoro, apprezzavano la sua facilità di parola, l'ornato e la spregiudicatezza del suo linguaggio vernacolo e a maggior ragione lo stimavano. Tra i primi, con in più l'affetto e il sottile grado di parentela che li legava, c'era Olindo, infatti. Avevano succhiato allo stesso seno ma in apparenza piuttosto che fratello Olindo gli avrebbe potuto essere padre. Gli anni di miniera, il peso della famiglia e i guai che negli ultimi tempi in specie gli erano capitati l'avevano fatto fisicamente, l'avevano anche fisicamente abbattuto. Il suo corpo appariva come prosciugato, di media statura com'era, aveva la testa piccola, pressoché calva ormai, ossuta, di vecchio e questa vecchiezza precoce del resto non rara tra quegli stessi muratori soprattutto traspariva dal viso segnato dalle rughe e così magro che gli zigomi sembravano bucare la pelle e le labbra quasi scomparire dentro la bocca sdentata. Ne lo ravvivava lo sguardo, i suoi occhi marroni scuri come conficcati dentro quelle orbite fonde, più apparivano dolci, spauriti, più ti sfuggivano, non sapevi mai se esprimessero rassegnazione o dissimulassero una costante inquietudine sul lavoro, il suo modo di fare, sempre lamentoso e non di meno sempre pronto al risentimento, la sua fiacca seppur giustificata dalla poca salute e di conseguenza il suo evidente desiderio di entrare nelle grazie del caporale non gli avevano guadagnato molte simpatie, ma egli era il fratello di latte di Cipressino, Metello lo proteggeva e quindi se Eulindo non si era fatto dei veri propri amici nemmeno aveva suscitato rancori né dichiarate antipatie. Cotesta mattina uscì di casa attraversarono piazza Santa Croce e Metello si ricordò di dover comperare da fumare. Acquistò un sigaro, lo trinciò alla piccola mannaia che era sul banco del tabaccaio e ne offerse mezzo a Eulindo il quale invece di accenderlo lo conservò disse a digiuno non mi va e poi lo debbo far durare con i giorni in cui andiamo incontro chissà cosa ci potrà capitare. Erano sulla soglia della tabaccheria Metello stava col fiammifero tra dito e dito l'aveva sfregato al muro aspettava si consumasse lo zolfo intanto lambiva il sigaro alla punta e poi l'accese. Ci capita che chiediamo meno di un'elemosina tu parli bene ma uno che è nelle mie condizioni io davvero è come se fossi di già all'elemosina sono in molti a trovarsi nelle tue condizioni disse Metello gettò lo zolfino e giunse e anche io ti sarai reso conto che non navigo nell'oro siamo tutti a un passo perciò si è deciso e l'animo questa volta è di far sul serio e se va a finire come l'altro anno io non c'ero voi altri me l'avete raccontato doveste tornare in cantiere col bel risultato di aver perso due settimane di lavoro Metello lo guardò in viso e Olindo abbassò gli occhi si erano nuovamente incamminati anche in Belgio cosa credi negli ultimi tempi ci si è provato ne andò bene uno su tre al terzo sciopero ci aumentarono due soldi e in tutto si persero 34 turni dopo un anno che si lavorava con la nuova paca praticamente non si era ancora ripreso quanto si sarebbe guadagnato se si fosse fatta a meno di scioperare e tu oggi dille queste cose chissà che qualcuno non ti dia ragione io non mi metterò mai contro di te borbottò Olindo e Metello disse sei proprio rimasto il pastore di una volta e lo prese a braccetto e gli strizzò l'occhio siccome stavano incrociando una bella donna c'era comunque l'affetto e la realtà miseranda in cui Olindo si dibatteva la moglie i quattro figli e la sua poca salute a renderlo comprensivo gli disse non è stata mica un'idea mia o di Del Buono o di Gerviniani la mia volontà e la loro contano tutte per uno è stata la maggioranza e proprio quelli che vengono di campagna come te sembrano i più decisi siccome non ce la fanno più a tirare avanti se non ce la fanno loro e non ce la fai tu che sei muratore cosa dovrei dire io che alla mia età lavoro e piglio la paga che mano vale ecco disse Metello continuo al discorso sarebbe erano sbucati in corso dei tintori e Del Buono sulla porta della camera del lavoro tormentava la corona del grosso orologio che il giornale del partito regalava ai sostenitori col nome inciso sulla cassa vide Metello e gli gridò sei in ritardo non ti pare no non mi pare è il tuo orologio che non può fare a meno di andare avanti lo devi fermare risero e tutti insieme allungarono il passo presero delle vie traverse e oltrepassarono la circonvarazione c'era Giannotto c'era Renzoni Renzoni piccolo come lo chiamavano un manovale piccolo d'anni e di statura quanto il giovane re d'Italia e non aveva ancora fatto il militare e dei cinque del Buono che era il più anziano era quello che camminava più spedito ora la strada diventava obliqua chissà chiusa dagli alti muri ai due lati lasciava sulla sinistra la villa medicea e al di là di Correggi si inoltrava verso il poggio la risalivano a due a tre distanziate in fila i muratori era una metà di maggio torrida che anticipava l'estate dico del Buono non si potrebbe andare più piano io ho fatto il soldato infanteria non i bersaglieri del resto lo vedi quanto ce n'è ancora per la strada più avanti una colonna di militari a passo di campagna e i fucili a spallarm si dirigeva al poligono poveri ragazzi disse Metello come li compiango ma del Buono soffermatosi un attimo su su disse mi sembra sia bene arrivare per primi non ti pare e poi per raggiungere Monte di Vecchi ci vorrà un'altra mezz'ora Monte Vecchi era ancora lì uguale e le aspettava forse qualche faggio si era seccato o l'avevano tagliato altri ne erano cresciuti l'erba dei prati non era più la stessa ma uguale così i sazi gli arbusti i papaveri ai bordi della careggiata e il friniere delle cicale come in una domenica di tanti anni prima quando ci si davano appuntamento Betto e Caco Quinto Pallesi e il padre di Miranda e Fioravanti il tornitore le loro donne e amiche cosa c'era di cambiato? sulle colline che circondano la città negli stessi prati e boschi dove 20 o 30 anni prima anarchici e internazionalisti si riunivano a gruppi con chitarre vino e soppressata fingendo innocenti gite domedicali per distrarre l'occhio della polizia che ovunque li seguiva convenivano ora i muratori per discutere dei loro problemi allora erano anarchici e operaisti della prima internazionale adesso erano socialisti e della seconda internazionale e la diversità non consisteva nella differenza di un numero o di una parola bensì nel fatto che non erano più dei gruppetti ma delle leghe da prima le avevano chiamate di resistenza leghe di resistenza fra cappellai in paglia fra mani scalchi fra sellai e carrozzieri fra marmisti e scalpellini cuochi e camerieri stuccatori e formatori fra sarti fra infermieri fra doratori fra corniciai fra operai dei molini a vapore e a forza idraulica fra trombai e fontanieri e fra cocchieri di fitto e venditori di giornali e operai addetti alla vuotatura indora perfino erano un esercito 280 soltanto i vuotatori ed erano organizzati loro e le loro donne la lega delle sigaraie dopo quella dei muratori e manovali era la più numerosa e dietro avanti a loro invece di avere dei circoli delle società operaie del mutuo soccorso li guidasse dei ambri sotturati avevano ora anche un partito e deputati in parlamento e giornali che uscivano tutti i giorni puntuali come la nazione c'era che proprio adesso che agli effetti della legalità e dell'ordine pubblico e della sicurezza dello stato erano molto meno pericolosi la polizia sembrava temerli di più gli era stato concesso di riaprire la camera del lavoro e subito le loro associazioni da leghe di resistenza erano diventate leghe di miglioramento cosa intendessero lo dicevano le parole cresciuti di numero via via che si aprivano le nuove fabbriche i meccanici i vetrai i fonditori i ceramisti questi muratori si accresceva la loro organizzazione certe categorie come i metallurgici i chimici i parrucchieri avevano creato delle federazioni e i ferrovieri loro un sindacato così riuniti per arti per mestieri da se stessi schedatisi sembrava più facile poterli sorvegliare al contrario risuosi oramai solo negli atteggiamenti nelle pose sempre disarmati non gli si potevano attribuire idee a lorsini dandosi l'occasione incrociavano le braccia e restavano a guardare la grande rettata del 98 sembrava li avesse trasformati non uno dei reduci del domicilio coatto aveva mancato ai suoi doveri di sorvegliato speciale e a tutti l'amnistia concessa per l'incoronazione di vittorio terzo aveva lavato la fedina e bravo lo spiombi così avevano salutato l'atto di clemenza che li rimetteva a godere dei diritti civili sarebbe bastato un evviva o un abbasso per poterli di nuovo imprigionare ma si erano fatti astuti erano dei fiorentini dei toscani che avevano imparato la lezione gente come loro anche più pericolosa e decisa di loro nelle romagne dove il sangue è caldo e gli entusiasmi sono sempre accesi ce n'era che si lasciava andare alla sommossa alla ribellione e con i loro simili come e con i loro simili della bassa Italia ignoranti e indubbiamente anche più affamati di loro bastava ancora poco per fargli rischiare il codice alla prima uscita ma questi di Rifredi di San Nicolò di Ponte a Ema e quei contadini del Galluzzo dell'Impruneta di Contea che non avendo più terra e non volendo più lavorarla si erano messi a praticare la mola e la calcina erano se possibile più furbi più evoluti e coscienti come dicevano degli operai di Milano e di Torino quando preparavano uno sciopero e lo mettevano in atto la polizia si doveva limitare a circondare le fabbriche e i cantieri finché non turbavano l'ordine pubblico e non attentavano alla sicurezza dello Stato non c'era altro da fare del resto erano già loro uno Stato non solo essi lo proclamavano ma il governo gliene aveva dato atto diciamo Giolitti che era ministro di polizia spesso e volentieri legava le mani non a loro ma al prefetto al questore un pittore famoso li aveva dipinti con la giacca appesa alla spalla i berretti sulla nuca le donne a fianco che venivano avanti come uno stormo d'api a cuneo come la prora di una nave e sua maestà si era congratulata con l'artista cos'era dunque se non la storia o il progresso che camminava si poteva fargli segnare il passo spingerli indietro non era più possibile le macchine che gli erano state messe nelle mani e che producevano ricchezza col loro rumore forse li avevano destati la sveglia aveva raggiunto i ponti e dilagava sui solchi costoro non erano più degli isolati degli individualisti dei libertari questo era c'era di cambiato non erano più dei poeti in definitiva i poeti coloro che ne hanno l'animo comunque sono sempre lì pronti a offrire il petto a versare lacrime a dispensare amore questa era gente che non possedendo nulla contesto zero voleva dorinavarli davanti saperlo amministrare la dottrina che dicevano di professare anche se la più parte di loro continuava a ignorarne la dialettica e l'esatta esposizione stabiliva un preciso rapporto tra il dare e l'avere tra sudore che cola e stomaco che langue tra sfruttati dicevano e sfruttatori era gente magari ancora illetterata come il Niccheri che gli raccontava la storia cantandole in ottave ma che credeva di avere capito poche cose ma chiare e ci credeva credeva nel suo stomaco e nel suo sudore più che l'intelligenza l'illuminava l'istinto una verità brutale ma esplicita la confortava con la sua ragione e più dei capi facili a spendersi o deviare anche se sempre o quasi pagavano di persona era la propria forza naturale che guidava con testa gente diritta per la sua strada